Sinistra 4, taglia molto, stringi e arrivo. Eh, ci siamo scesi sotto i 14 minuti. Un sacco di errori. Ok. Ho fatto un sacco di errori. Buongiorno ragazzi, se vi fa piacere seguitemi. Se non vi fa piacere seguitemi lo stesso, tanto è gratis. Almeno avete qualcosa da guardare. Ora ci vediamo un po' il replay. In questa prima posizione, al momento. Anche se ho fatto qualche errore. Tolgo la web così, poi la carico su YouTube. Mi raccomando, seguitemi. Ci vediamo questo replay e poi andiamo a pranzo. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.